e tu lo sapevi che c'è un odio buono anzi un odio santo sì come quando ti dicono che devi odiare cioè mettere proprio da parte rifiutare rigettare con tutte le tue forze i cibi spazzatura ebbene c'è qualcosa di molto più importante e decisivo per la nostra vita per la nostra vita spirituale ma anche per la nostra vita quotidiana per le nostre relazioni da odiare senza sé e senza ma è da odiare tutto ciò che ci allontana dal signore che c'è di scandalo nella sequela nel seguire il nostro signore gesù cristo perché non è possibile essere cristiani e quindi non è possibile essere felici se gesù cristo non è l'unico signore della nostra vita se cioè a gesù cristo noi non diamo il cento per cento della nostra vita della nostra mente del nostro cuore della nostra anima se non ci consegniamo completamente a lui perché lui venga a prendere dimora stabile dentro di noi per essere felici e essere felici è conoscere lui vivere in lui vivere per lui vivere di lui seguire lui seguire le sue orme in ogni circostanza della nostra vita essere così ricolmi del suo amore sazi del suo amore sovrabbondante da vivere ogni relazione nella libertà e nell'amore autentico di chi appartiene completamente al signore al punto da poter dire come san paolo sono stato crocifisso con cristo e non sono più io che vivo ma è cristo che vive in me ma perché cristo viva dimori in me e prenda possesso di tutto me stesso è necessario odiare cioè mettere da parte le relazioni morbose quell'affettività malata che ci lega alle persone in modo tossico in un modo che non è libero tipico di chi cerca negli altri la vita che non ha in se stesso se gesù cristo è dentro di noi allora tu puoi stendere le tue braccia con lui cioè portare ogni giorno la tua croce entrare nelle difficoltà nella precarietà nelle sofferenze che anche le relazioni provocano nelle umiliazioni nel non essere considerato nell'essere messo da parte e rifiutato nel non essere compreso senza morire dentro quelle situazioni ma vivendo quelle situazioni con cristo da risorti da vittoriosi sulla morte questo significa essere cristiani essere discepoli di cristo perché si segue gesù cristo sulla via del calvario sulla via che conduce alla croce per entrare con lui nella resurrezione partecipando con lui alla sua morte alla morte dell'uomo vecchio dell'uomo che esige dell'uomo egoista per essere trasformato cioè risuscitato in una creazione nuova per questo non si può essere discepoli di cristo se non si rinuncia completamente a tutti i nostri beni che non sono solo il denaro è certo anche il denaro ma sono i nostri criteri i nostri progetti e non è una regola non è una legge esterna che io devo compiere è qualcosa di ontologico è qualcosa di essenziale di sostanziale perché non può essere di cristo non può vivere in cristo non può lasciar vivere cristo in sé chi ha degli spazi che riserva a se stesso a degli spazi che riserva al peccato per questo non è possibile essere cristiani se non si rinuncia a tutti i nostri beni a tutte le nostre affezioni carnali e umane si può essere cristiani si può essere felici si può essere compiuti solamente se ci si completamente a cristo che sulla croce si è donato completamente a noi